I banchi allineati in modo regolare sono piccoli per consentire il distanziamento necessario nelle classi di 26-27 posti dove a settembre torneranno gli alunni. Sono 1310 quelli iscritti al liceo Maffei. Eravamo venuti qui l'estate 2020 e torniamo per vedere che cosa è cambiato in vista della riapertura. Si prepara sostanzialmente mantenendo quella serie di misure, di precauzioni che già abbiamo attuato fino allo scorso giugno sostanzialmente con consapevolezza forse maggiore rispetto allo scorso anno vista l'esperienza che abbiamo maturato nel passato anno scolastico. In questi mesi il liceo ha fatto uno studio per verificare la tempistica del ricambio dell'aria nelle classi per garantire il minimo rischio agli studenti. 10 minuti di giro d'aria ogni 40-50 minuti. Ci sono anche due aule più grandi come questa che è ancora in fase di sistemazione dove il distanziamento è maggiore mentre per le classi più numerose del biennio si farà ricorso a strutture esterne. Al biennio in via Venier, biennio classico linguistico dove abbiamo le classi più numerose anche di 28-30 studenti effettivamente abbiamo necessità di utilizzare gli spazi più grandi. Stiamo lavorando con la provincia di Verona per poter allestire all'esterno delle tensostrutture attrezzate che ci possano consentire di ospitare le classi, almeno un paio di classi fra le più numerose. Secondo lei c'è qualcosa da fare in più per arrivare alla ripresa della scuola più certi, con misure più chiare in modo che effettivamente si riparta in presenza? L'idea che mi sono fatto io è questa, c'è un dato di incertezza che sta nell'ordine delle cose, l'andamento del virus, l'incidenza dei casi. Questo è prevedibile ma abbiamo capito che c'è anche una sorta di incertezza che sta proprio nella natura stessa del virus. Quello che noi possiamo mettere in campo in senso migliorativo a mio parere è un lavoro di coordinamento, di sinergia fra tutti i soggetti del territorio, sempre più efficace e sempre più progettato e coordinato, questo sì.